Per la prima volta nella sua storia, Tunisi ha una donna come sindaco. Suad Abderraim, 53 anni, responsabile di una compagnia farmaceutica, è stata eletta nelle file del Partito Islamico Moderato Ennada. Si tratta di una novità per una capitale araba. Lei ha dedicato la sua vittoria a tutte le donne tunisine e ha definito la sua elezione un evento storico. Abderraim era già stata eletta lo scorso 6 maggio, ma è stata adesso confermata dal voto dei consiglieri comunali. La lotta contro le discriminazioni di genere è una delle sue battaglie. Le ultime elezioni comunali in Tunisia sono state caratterizzate da scarsa affluenza, ma da una buona affermazione delle candidate donne.